Sono ben nove le infermiere che nello stesso reparto sono incinte in maniera contemporanea. Nell'ospedale di Portland, il reparto di maternità lo ha comunicato attraverso il Main Medical Center di Portland che ha pubblicato le congratulazioni alle ragazze in questione, tutti incinte contemporaneamente. Tra aprile e luglio parto di danno, ma secondo quello che la CNN riporta, l'ospedale non sarebbe minimamente preoccupato per la mancanza di radio personale e ha fatto sapere attraverso Facebook che è tutto a posto. Il suo problema di personale dunque nell'ospedale di Portland, nove infermiere comunque ricordo ancora nuovamente che sono incinte. Chi sarà stato? Ovviamente è un caso fortuito questo che si è venuto a verificare, si è venuto a creare. Grazie, grazie a tutti infinitamente di questa visione di questo video di oggi. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate, datemi la vostra opinione, a me piace di saperla, averla. E ovviamente iscrivetevi a questo canale di YouTube Italia.